Si chiude un campionato sofferto in una cornice comunque indimenticabile. Solo un mese fa forse era impronosticabile un finale di questo genere. Esattamente, sono molto contento perché è stato un anno difficile e alla fine siamo usciti alla grande. Sono molto contento. Raccontaci il tuo gol. Il mio gol. È stata una deviazione di Renzetti abbastanza importante, però io ho tirato in porta e secondo me il mio gol è mio. Sei cresciuto tanto lungo questa stagione. Che voto ti dai? Che voto do a me stesso. A me non è importante il mio voto. L'importante è questo che ci abbiamo salvato perché come ho detto prima è stato un anno difficile, che io non ho vissuto un anno così in mia vita. Alla fine sono molto contento e ho grossi soddisfazioni con tutti i ragazzi perché alla fine in momenti più difficili abbiamo dimostrato che siamo una squadra e alla fine abbiamo portato con squadre più importanti di noi in questo anno. Noi abbiamo fatto gare stupende.